La Commissione regionale antimafia è stata a Siracusa, audizioni, in prefettura si è parlato di fiumi di droga che inondano la Sicilia. Inviata Lucia Basso. Fiumi di sostanze stupefacenti invadono anche la provincia di Siracusa. Un consumo crescente in tutte le fasce sociali e di età. Traffico di droga gestito dalla mafia che lo predilige alle estorsioni. Dati allarmanti che emergono dopo le audizioni in prefettura della Commissione regionale antimafia presieduta da Antonello Cracolici. Con il prefetto, il procuratore capo, i rappresentanti delle forze dell'ordine, il capo del centro della via di Catania e i sindaci della provincia. Prosegue così la mappatura sullo stato della criminalità organizzata in Sicilia. Droga vuol dire mafia e sempre di più noi stiamo aiutando i mafiosi a ricostruire una grande ricchezza che malgrado le attività di sequestri che vengono fatti incide solo per una parte di quella ricchezza che si sta accumulando a tal punto che ci viene riferito dalle forze dell'ordine che persino l'attività estorsiva in questo territorio appare meno acuta. Cracolici ha poi chiesto ai sindaci di costituirsi parte civile in via automatica in tutti i procedimenti che riguardano spaccio e traffico di sostanze stupefacenti. È importante nel contrasto alla criminalità organizzata mafiosa non sentirsi soli. Le istituzioni ci sono tutte, ognuno cercherà di svolgere sempre meglio il proprio ruolo.